ciao ragazzi benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi oggi vi farò vedere un progetto che quando ragazzi allora ragazzi dovete capire che io già da circa tre anni tre annette e mezzo faccio esperimenti e qui sul canale vedete qualcosa sto andando a studiare il magnetismo vado a fare prove per quanto riguarda la creazione di energia elettrica con elettromagneti magneto al neodimio progetti ragazzi particolari una buona parte di questi progetti purtroppo vedi per causa di mancanza di tempo per causa di mancanza economica di investimento perché ragazzi se uno deve acquistare tutte le componenti per andare a fare vari esperimenti e ragazzi ci vogliono un sacco di soldi perciò non sono mai andato tanto oltre ok oggi ragazzi voglio farvi vedere un progetto molto molto interessante grazie a dei magneti al neodimio posti nord sud nord sud ok tutti a cerchio su una base rotonda possiamo andare a creare un campo magnetico ok questo campo magnetico che cosa ci permetterà di fare se andiamo a mettere un tubo di rame sul frontale a pochi millimetri di distanza la variazione di questi poli magnetici velocissima perché ragazzi sono tutti inseriti uno a fianco all'altro e questo esperimento ragazzi se volete replicarlo più magneti ci saranno nella circonferenza e più forti saranno ne magneti più sarà il calore generato da questo sistema voi mi direte alla fine fox ma hai scoperto l'acqua calda sì ho scoperto l'acqua calda io intanto ringrazio a paolo per queste chiccherie che riesce a sfornare e condivido con grande piacere sui miei social questi bellissimi video che possano essere un punto d'inizio per tutti quelli che vogliono studiare sperimentare per nuove forme ragazzi di energia alla fine ragazzi qui è creare acqua calda tramite la semplice rotazione di questo disco perciò voi mi direte fox ma per girare il disco serve potenza serve energia elettrica è vero ragazzi ma se io vado a mettere un motore brushless di ultima generazione ad altissima efficienza questo motore brushless lo faccio girare con un piccolo pannello solare di giorno io mi sono fatto acqua calda di giorno senza andare ad avere boiler resistori scaldabagni pannelli solari per l'acqua calda alla fine ragazzi l'energia è energia gratuita proveniente dal pannello solare fotovoltaico lui fa girare il motore e il motore fa girare i magneti i magneti eccitano il rame il tubo di rame e abbiamo l'acqua calda ragazzi vedete cosa vi porto io sul canale smartellatemi tanti like buleggia che fa girare un volano dove sono incollati magneti al neodimio di una certa potenza adesso si vede che ruotano perché c'è un bel cuscinetto metto vicino questo elemento riscaldatore che si usa solitamente per asciugare la teleria e funziona con acqua calda qui abbiamo un tubo di rame che praticamente io andrò a utilizzare accoppiandolo a questo diciamo generatore di calore perché sfrutterò l'effetto magnetico o l'effetto lens magnetico girare la poleggia lo fa girare praticamente con un motorino il motorino farà raggiungere un certo numero di giri e quindi praticamente il tubo si riscalda notevolmente e quindi praticamente tutta l'energia magnetica si va a trasformare ecco sta uscendo anche addirittura l'acqua in vapore il vapore adesso lo andiamo a vedere mettiamo dietro una cosa nera dopo si mettiamo in evidenza il fumo del vapore che si vede uscire come se fosse una caffettiera eccolo qua che arriva ecco il vapore che sta uscendo a questo punto praticamente noi abbiamo da fare sia le misurazioni che collegarlo a questo a questo radiatore tramite questa pompa in maniera tale che io ecco faccio uscire l'acqua lo faccio a defluire e dopo di che con leggo il tubo in maniera che ho un ricircolo dell'acqua quindi abbiamo praticamente il circuito che praticamente è stato riempito e adesso praticamente il mio termosifone praticamente andrà prevalentemente con con questo dispositivo che praticamente produce calore quindi appena io avvio di nuovo il rotore il rotore praticamente trasforma l'energia magnetica in energia termica ad induzione magnetica quindi io collego in le mie sonde di temperatura per poter verificare a che temperatura e il mio riscaldamento il mio elemento che è stato collegato a questo generatore di calore qui misuro l'intensità dell'amperometro sia del della puleggio quindi del motorino che mi fa fare il giri al volano magneti che al motorino dell'acqua che mi fa il ricircolo mi assicuro che la sonda capti e la temperatura del radiatore che vertiginosamente sale e salita già a sessantate gradi e mezzo quindi praticamente il nostro radiatore sta riscaldando egregiamente esattamente come se ci fosse in questo momento abbiamo raggiunto i 70 gradi quindi praticamente la temperatura di esercizio di una caldaia a questo punto noi andremo a staccare il nostro generatore di calore ci montiamo la tubazione per andare a prendere la misura esatta dell'acqua che all'interno del radiatore e vedere a che temperatura si trova la medesima quindi sto vedendo che 44.1 47.4 ben 48 gradi e mezzo di temperatura quindi praticamente funziona egregiamente lo possiamo usare a posto del gas ragazzi come avete visto è un sistema creato realizzato già rotato e anche se in fase di sperimentazione e miglioramento continuo ragazzi secondo il mio punto di vista modesto punto di vista questo progetto se sviluppato con un buon quantitativo di investimento monetario economico può davvero fare la differenza tanti di voi mi diranno fox questo progetto va contro tutte le leggi della fisica nulla si crea nulla si distrugge tutto si trasforma e bla 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 ragazzi le leggi antiche perché io le chiamo antiche anche se sono mondiali super riconosciute super affermate è vero ragazzi ma sono vecchie la tecnologia che abbiamo oggi non c'erano anni anni e anni fa i magneto neodimio negli ultimi anni stanno registrando super potenze magnetiche l'elettronica di oggi non esisteva ai tempi tutto ciò che noi abbiamo oggi ragazzi non esisteva ai tempi cioè può anche darsi che grazie a tutta l'innovazione tecnologica si possa andare contro le vecchie leggi della termodinamica di tutto ciò che volete cioè ragazzi per me l'energia gratis esiste oggi più di 10 20 30 40 50 100 anni fa perché perché la tecnologia avanza ciò che abbiamo oggi la tecnologia che abbiamo oggi non esisteva neanche lontanamente tempi perciò ai tempi erano molto arretrati sia mentalmente che praticamente cioè sei tempi avevano le tecnologie di oggi chissà cosa avevano fatto se già tesla ai tempi aveva inventato la qualsiasi con nulla ragazzi con nulla oggi con la tecnologia di oggi con le sostanze di oggi con i materiali innovativi di oggi o mamma mia e che cosa andavamo ad avere in giro per il mondo super mega tecnologie ragazzi ragazzi per questo video è tutto spero ti sia piaciuto lasciamo un like iscriviti al canale abbonati così da seguirmi se anche tu hai progetti innovativi inviameli fammeli avere tramite mail e nasceranno nuovi super video li mostrerò a tutta la community ciao ragazzi e al prossimo video ciao